E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi come potete vedere siamo nell'arena 4 Non sono riuscita a portarvi i video ieri e l'altro ieri per questo mi scuso Perché ieri avevo dei problemi di connessione proprio con il wifi e non potevo fare niente L'altro ieri invece mi si arrestava in continuazione Mobizen Infatti spero che, ma anche prima stavo iniziando a registrare Di colpo mi si arrestato Mobizen Comunque sono cose che succedono Capita Comunque come vedete anche Ora sto cercando di registrare Spero che continui a registrare Comunque ragazzi come non potete vedere per ora ve ne accorgerete Non siamo soli Ma sono insieme a mio amico Giorgio Dai saluta Comunque lui comunque non ha un canale youtube quindi non posso lasciarvelo in descrizione Comunque ragazzi come potete vedere siamo in arena 4 Siamo in piedi passi da 1148 coppe Ora andremo a fare in questo video cercheremo di fare il baule della corona Dobbiamo fare almeno una stella Però logicamente speriamo di non perdere la battaglia Perché noi dobbiamo vincere Dobbiamo fare tantissime coppe Come vedete comunque qui ragazzi Abbiamo migliorato un po' il nostro deck perché abbiamo trovato la Tesla E mi ha fatto subito al 4 in due giorni Anzi in uno perché ieri non ho potuto giocare Vabbè sì però oggi E l'ho trovato già all'orda di sgherri E stamattina l'ho portata già anche questa a livello 4 Sempre stamattina ho trovato il domatore Però non l'ho messo nel deck perché ce l'ho ancora solamente all'1 Quindi è scarso per ora Dunque ragazzi questo è il deck scheletro E il deck con il quale sono riuscito ad arrivare all'arena 4 Ma vedete ho anche tantissime altre carte molto forti da utilizzare Che però non utilizzo perché io mi trovo bene con sto deck Quindi noi ora andiamo a cercare qualcuno ad attaccare Noi ci vediamo nella battaglia Eccoci qua ragazzi siamo tornati contro Fuzzi Naval Che è il nome del piffero Comunque ragazzi partiamo con il nostro scheletro gigante livello 2 E subito dietro il bombarolo Sperando che faccia qualcosa Il bombarolo sì Mi ha messo l'orda di scheletro e noi abbiamo il bombarolo che fa danno a zona Noi ragazzi dobbiamo sperare che il bombarolo No che lo scheletro gigante arrivi sotto torre Ma non ci è arrivato perché se lo scheletro gigante arrivo sotto torre E esplodendo fa la bellezza Andando dalla bellezza di 790 di danno Quindi praticamente 800 mi fa fuori mezza torre Vedete ragazzi è già 1250 di vita con la torre Quindi noi dovremmo cercare di distruggerla completamente ormai Vedete mi mettiamo la lapide perché sta arrivando il suo gigante La Tesla dovrebbe prenderlo sì Come è previsto lo prende la Tesla Aspettiamo noi che si carichi lo scheletro gigante Al frattempo lui ci ha già fatto una stella però Noi non ci demoralizziamo perché Noi siamo noi possiamo vincere Vedetevi ora già buttiamo lo scheletro gigante Tutto dietro il bombarolo Appena si caricano gli spear goblin Cioè i goblin lanceri sarebbero si chiamerebbero in realtà Sì perfetto perché lui ci ha messo gli sgherri Però appena si caricano glieli mettiamo pure noi gli sgherretti Sì ragazzi dai che sta avanzando il nostro scheletro gigante No cacchierola Ma noi gli facciamo una stella perché lo scheletro gigante esplode 3,2,1,BAM Una stella effettuata Vedete ragazzi aspettiamo che si tolga la sua capanna di goblin Per buttargli il barile Barile Cavolo lui ci mette la Tesla Lui ci mette il gigante Allora noi contrattacchiamo con la Tesla e con gli scheletrini Cavolo raga si è messi male Si è messi un po' male Un po' maletto Un po' maluccio Però non dovrebbe farci più di tanto Noo no no Mi devo stare zitto Ecco ho parlato Per una stella java abbiamo fatta Quindi andiamo subito ad aprile E il baure della corona Anche se abbiamo perso 34 trofei Però siamo sempre a 114 coppe Ora abbiamo il baure della corona Speriamo di trovare il domatore o magari La torre inferno Bam baure della corona 154 di oro 3 gemme Una Tesla 4 orde di sgherri 13 frecce ma va a morire E il razzo Oh ma quando voglio la torre inferno qualcosa che voglio io non capita mai eh Comunque vedete ragazzi Ora questo è il mio deck Come appunto vi ho fatto vedere prima Non possiamo migliorarci niente Del deck principale Anche se qua avremo un casino di roba da migliorarci Ora io mi tengo l'ora perché mi voglio migliorare O l'ordine di sgherri Se trovo magari il domatore di cinghiali O altre cose del genere Ora se c'è qualcuno andiamo a fare una friendly battle C'è un'amichevole Per non spercare Cioè per non andare a rischiare di perdere troppi trofei Non c'è nessuno online Sono 4 su 42 Allora niente ragazzi Ah vero tra 11 minuti c'è anche un altro baule della corona Dunque vi farò sapere domani cosa troverò Però anzi no perché è vero Oggi avevo intenzione di registrare insieme a Giorgio FIFA 16 e caricarvelo successivamente Poi domani Quindi niente ragazzi Purtroppo questo video durerà solamente 5 minuti Perché non ho intenzione di farlo troppo lungo Anche perché sto morendo proprio di stanchezza Non ce la faccio nemmeno più a registrare Tra un po' sono troppo stanco Quindi comunque ragazzi Si va bene lo stesso perché 5 minuti e 30 Abbiamo fatto anche un attacco Il baule della corona Tutte ste robe Ho messo prima Mi era messo prima a fare Il baule del gente Dell'arena 4 Per trovare delle cose Non possiamo nemmeno chiedere truppe Non c'è nessuno online Quindi niente ragazzi Per questo video è tutto Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Lasciate un bel like E noi ci vediamo domani Nel prossimo video di FIFA 16 Bella